Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video durante il quale vi presenterò la top 3 dei migliori materassini per piscina. Vi invito a dare un'occhiata alla descrizione dove troverete tutti i link dei prodotti e le migliori offerte del momento e adesso passiamo alla top 3 dei migliori materassini per piscina. Quindi cominciamo con il materassino per piscina mid. Iniziamo questa top con questo bellissimo materassino per piscina. Prima di tutto dovete sapere che è disponibile in diversi colori potete scegliere tra blu o rosa. Oltre a questo è naturalmente super confortevole e sarà un vero grande vantaggio da mettere nella vostra piscina e fare sonnelli perfetti durante l'estate nella vostra piscina. Il bello di questo materasso da piscina è che non è un materasso classico. Le parti intorno ad esso sono in modo che possa galleggiare ma l'interno è una rete che significa che toccherà l'acqua e eviterà il fresco. Perfetto per passare i pomeriggi in piscina a rilassarsi. Poi troviamo il materassino per piscina Intex. Passiamo ora a un materassino per piscina più classico con questo materassino Intex. Se non conosci la marca Intex devi sapere che è semplicemente uno dei leader mondiali nel mercato delle piscine. I prodotti sono davvero di altissima qualità e molto resistenti. È il caso di questo materassino che è molto comodo. Hai anche uno schienare per essere davvero ben sostenuto ma anche un portabicchieri molto pratico per rinfrescarti facilmente. C'è anche uno spazio per le gambe alla fine del materassino per metterci le gambe quando va troppo caldo. E per finire ecco il materassino per piscina Wenlia. Per concludere questa top passiamo a un modello molto più originale con questa meglia. Infatti non abbiamo qui un materassino classico ma un boa di design a sirena molto ben fatta. Questa boa è molto larga e sarete perfettamente installati su di essa. Scende anche un po' all'altezza dei glutei in modo che ci si possa sedere comodamente ed essere perfettamente a proprio agio. C'è anche un portabevande per mantenervi idratati. Le dimensioni di questo materassino da piscina sono 110 cm di lunghezza e larghezza. Ecco grazie per aver seguito questa top 3 spero che ti sia stata utile. Non esitare a mettere un like un commento e ad iscriverti al canale è sempre un piacere. Ti ricordo anche che ho messo i link dei prodotti e le migliori offerte nella descrizione puoi vedere tutto ciò e su questa nota ti dico a presto per un nuovo video.